La tranquilla vita in provincia. Eh, c'ha sempre ragione lei. Tanto tranquilla non è. Dentro! Tutti dentro! Fermi! Una semplice rapina? Non vi sembrano troppe coincidenze? O un caso molto più intricato? Il ragazzo è indebitato fino al collo. Lo so che potrebbe sembrare colpevole, ma lei non è convinta. Tutta colpa di Marco. C'è qualcosa che non mi torna. Lui sa più di quanto ci dice. Ecco la poliziotta. Vanessa Incontrada è Fosca Innocenti. Prima assoluta da venerdì 11 febbraio su Canale 5.